Ragazzi un salutavo strastartide, vorrei tantissimo farvi vedere cosa ho trovato nelle 77 casse enormi e un estratto della live di ieri In modo che così evitate di andarvi a vedere due ore di live ragazzi lo faccio per voi non vi preoccupate e dopo vorrei andarci a provare la star power di mortis perché a quanto ho capito è diventato illegale con la star power che gli accelera il colpo che si carica casino è diventato immortale Vi lascio all'estratto e dopo proviamo mortis ragazzi Troverai patate, buone anche quelle sono buone le patate Giacomo Magari me le facesse trovare già fritte, tagliate, tutto così almeno ci ingozia Eccolo! Sembra la televendita ogni tanto Buono, buono ci serviva assolutamente Una per lollo E per lollo invece c'è qualcosa Lollo facci trovare qualcosa di decente Dai! Forza! Una star power così siamo tutti felici Mazza perfetto C'è uscito quello per Spike, lo stavo cercando E Spike è completo come gadget Siamo a posto, siamo ricchi e nessuno lo sa Andiamo avanti Diamogliene una ad Asia Asia! Esce qualcosa Asia ci sta facendo trovare qualcosa C'è una dietro l'altra, perfetto Forza! Perfetto, quello che serviva per Nita Bellissimo! Questo lo cercavo da tantissimo tempo ragazzi Per fare la rapina È buono, buono, buono Dedichiamolo al gruppetto Casinista di Salvatore, Arianna e Giovanni Dai! Ci ha fatto trovare qualcosa il gruppetto Vedete? Più ne metto assieme Più ci fa trovare qualcosa Forza! Forza! Buono, 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 buono Mazza manco farla apposta ragazzi Ci sta trovando le star power utili Snio! Giusto! Una a te e a tua cugina Hai ragione Irisina che non c'è Eccolo qui Iris poi guarderà il video dell'estratto E dirà Ci ha trovato qualcosa! Mamma mia c'è uscita quella di Mortis Quella che rende Il caricamento di Mortis illegale E la star power pure illegale Cioè si completa una vicenda Perfetto! Andiamocelo a prendere Dove che aspita è Mortis? Eccocelo qui Mettiamoci l'altra Quella che abbiamo trovato poco prima Oh perfetto Vediamo come si comporta ragazzi Che bello che c'è stecca Quando io proprio devo provare il Mortis Cioè proprio io provo il Mortis Giustamente chi prova il Mortis Deve ovviamente andare a rompere le scatole Venga qui! Aiuto! Meglio va Si vanno a bisticciare No! Aiuto! No! Peccato 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 Ogni volta si scansa il gol per nulla Ma perché tutte le santissime volte? Via! Togliti Dynamike Hai rotto le ballissime! Togliti! Fa bestuna a me Che ci possiamo fare? Quello il pallone E quello è interessato di più a killare Dynamike Che passaglielo E fare gol E invece no Dai! Bravissimo! Error! Signor Frank! Sia utile alla causa! Venga! Venga che la picchio Che ha rotto le balle lei! Aspetta che... Mi sta killando? Ma guarda con 5 di vita! 5 di vita puzzolenti! Error! Ma che caspita ci pusciate se ci avete 2 di vita? Aspetta Aspetta Aspettissima Aspetta Aspetta Ma che vuoi? Ma sei killato? Ma stai scherzando? Ma davvero? Fammi prendo... Quello si è mangiato la uti tantissimo Aiaiaiaiaiai Aiaa Dolores Dolores Per tuttese Vai Frank Niente Io non esisto in questa partita Se la stanno passando solo tra loro Io non esisto Anche io voglio fare il gol Non è vero A me non interessa fare gol Mi interessa di più vincere la partita Che andarci a fare il gol Allora No scordatelo che io E invece sì, è stato bravo Bravo, bravo, bravo il signor Stura Lavandino Andiamo Facciamogli sentire il casino Dai Dai a tutti A tutti ho killato Dai fateci sto gol Mamma mia sta gente Ringa Radu Ringa Radu Quelli con le brawler silver dovrebbero essere Quelli bravissimi Proprio quelli bravi 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 Via Dai ragazzi perché io push E quelli dormono Mannaggia della miseria Che quello prende e ci fa il gol della vita Che cosa ci ho parato Cosa io avere parato In questo momento Vieni tu qui uno due E faccio il gol Perfetto Aspettavo che saltasse Aspettavo assolutamente Che saltasse Ragazzi Perché so che Per togliere il pallone Giustamente Energetic è l'unico modo Che può Rompere le scatole Aia Aia E ma caspita Quanto danno Ma dove è andato Quella Funghi No Brutto Struzzo che non sei altro No guarda che antipatico Ragazzi Dai che si può fare il gol Mannaggia Dai che si può fare il gol No Perché Non ci infila in porta Che gli venisse la cagarellina Perché Poccio Traditore della patria Guarda Guarda questo Togliti Almeno è stato tolto Aspetta 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 Semme Non così Che quelli mi lanciano in giro Che so grossi Ma perché Io non ce la posso fare Perché mi capitano tutte a me Ste partite Ah Bravi ragazzi Mortis è qui Guarda quello che già si è messo Il gadget Aspetta Attenzione che c'è lì Il signor ottolo E che purtroppo Io non posso fare Patate Uh Che bravo il signor Colt Bravo 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 Complimenti Bella giocata Ci ha fatto gol Bravo Aia Inizia fortissimo Griff Ecco Infatti mi sta Chiappando Eh Eh che diamine Che fa lo sapeva Bravo Colt Che l'è buttata All'altra parte Vediamo se riusciamo Senza Fare il casino Più assoluto Oh mamma mia Ci siamo riusciti A togli E gliela Sia lodato E che sto facendo No Sto facendo la prova Del secolo E me l'ha tolta Schifoso Che non sia Ci ho parato Il danno Di Frank E mi va a togliere Di là la palla Vai Nano Nano come sei chiama No Mi son mangiato Mi son mangiato le cose Di là Ma come Dai Bravo Startide Mamma mia Che brutto Poccio Averlo Contro Ragazzi Non muore mai Anche se morti Se non è da meno Ma proprio Non muore Proprio mai 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 Ma mannaggia Della miseria È proprio Morte Guarda Quello Che mi va a colpire Pacienza Tanta è appena iniziata Quindi facciamo il casino Più assoluto Se i miei compagni Non si vanno subito A buttare in bocca Alle persone Devo andarci a togliere Sta roba di qua Aspetta Che altrimenti Non è che io prende Mi faccio colpire così Dal tuo gadget Puzzolente Purtroppo Non ci posso andare Ragazzi C'è pocio Che cura sempre Che odioso È odiosissimo Devo andarci a killare Pure a quell'altro Ecco Io morto Bomb Che bello morire Ok Se mi Aiutasse E che difficile Mamma mia Cioè Dovrebbe colpire Continuamente Pocio Il signor Stecca Ce la facciamo Non ce la facciamo Questo è il dilemma Allora Quello ci ha messo Pure il mortaio Che bello Col mortaio Vero Purtroppo Da schifo Togliti Dal Kaiser Toglietemi tutti No Non voglio morire Bravo Dynamite Quella è arrabbiatissima Dice Come ti sei permesso Andarmi a prendere Le gemmine Ma che caspita I miei compagni Aiutatemi Bravo Stecca Così si fa Aiuto 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 Dimmi 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 Dai Bravo 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 Dynamite Proprio Bravo Bravo Veramente Complimenti Dynamite Bravo Stecca Ci siamo impegnati Per favore Ti prego Non rompere le balle Ciao A posto Ragazzi Lo dovremmo aver fatto A 600 Vero Ah vero C'era anche lo sfavorito Quindi ancora meglio Ragazzi Spero Che vi sia piaciuto L'estratto live Del box opening Mi sia piaciuto Come ho fatto schifo Con Mortis Mi hanno fatto un po' sclerare Perché sono uscita Comp del Kaiser Lasciate un mi piace Iscrivetevi Commentate E condividete In descrizione trovate Instagram e TikTok Ciao 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 Ciao